va ora in onda dentro la notizia a cura di manuela gaio oggi abbiamo in studio tiziano macchietto della rossa presidente dell'associazione radio amatori italia sezione cadore benvenuto buongiorno manuela grazie allora vogliamo parlare un po della figura del radio amatore perché c'è una confusione secondo me anche con vari altri cibi mi parlavi prima radio amatori sono cose diverse ci vuoi un attimino far capire che cos'è il radio amatore sì grazie ma è un diciamo una confusione che c'è sempre stata in realtà perché siamo un po parenti il radio amatore utilizza delle apparecchiature di una certa tipologia e lo può fare grazie a una patente riconosciuta dal ministero competente ea delle abilitazioni per farlo il cibi oggi è liberalizzato e non richiede nessun tipo di abilitazione sono sfaccettature di quello che è il mondo e la passione per la radio e come posso dirvi il radio amatore ha delle delle opportunità molto più varie di quelle che possono essere le opportunità più ristrette di altri modi di approcciarsi al mondo della radio come per esempio per i cibi ok che apparecchiature servono per diventare radio amatore e oddio servono ci sono tanti modi di essere radio amatore si può essere radio amatore con un piccolo apparecchio portatile che sta in un taschino e costa poche decine di euro esistono poi apparecchiature da diverse decine anche di migliaia di euro che diciamo riescono a fare altre cose coprire altre frequenze e dare altre possibilità ho capito ma qual è lo scopo del radio amatore che cosa serve un radio amatore allora il radio amatore lo fa per una passione per accrescere le proprie conoscenze lo scopo del radio amatore è di comunicare con altri radio amatori ed il collegamento stesso con altri radio amatori diventa il motivo del dell'essere radio amatori poi ha ancora oggi ha delle funzioni diverse che ci sono anche riconosciute dalla norma perché il radio amatore viene ancora riconosciuto come servizio diciamo così di pubblica utilità perché in caso di calamità e questa ancora forse un po la funzione sociale del radio amatore oltre che quella di portare avanti una conoscenza di elettronica e di altre materie il radio amatore ancora oggi in caso di calamità riesce grazie alle sue apparecchiature e se vogliamo alla semplicità di certi strumenti che lui conosce bene ad organizzare delle radio comunicazioni di emergenza e tu come sei diventato radio amatore la tua esperienza cioè se ti è venuta questa passione sì beh l'ho fatto anch'io passando per il mondo della cb vedendo altri amici che comunicavano fra loro per molti anni ho avuto tanti amici con i quali comunicavo sulla cb poi c'è stato un corso di elettronica in zona abbiamo frequentato in molti questo corso di elettronica qualcuno ha sostenuto subito l'esame ed è passato io per molti anni non nemmeno tentato di fare la patente la radio amatore e dopo si è riaccesa un po questa passione mai soppita grazie ad un altro amico della zona siamo andati insieme a fare l'esame ci è andata bene abbiamo conseguito la patente e siamo entrati diciamo in questa famiglia di persone che condividono questo hobby che è particolare è tosto come esame oddio tutto è relativo no ci sono delle materie poi chi magari ha già una preparazione di base in elettronica in materie scientifiche sicuramente è agevolato comunque no è un esame che chiunque oggi con un minimo di preparazione può ci sono anche donne sì ci sono non sono moltissime ma ci sono no lo chiedo perché di solito gli appassionati di elettronica sono più i maschietti no le femminucce forse preferiscono altre cose ma voi comunicate solo con persone italiane o anche con con tutto il mondo no con tutto il mondo ok quindi parlate anche inglese come comunicate tra di voi ma noi comunichiamo in vari modi in realtà non esiste solo la comunicazione in in forma parlata diciamo infonia verbale quindi come scusa non verbale quindi esiste la comunicazione in radiotelegrafia che è ancora molto praticata anche perché i radiomatori sono forse gli ultimi che portano avanti questa forma di comunicazione che è stata abbandonata in ambiente professionale ormai da molti anni però quelli che un tempo erano i professionisti oggi sono molti radiomatori e ancora si continua con questo modo di comunicare ed è molto bello per chi come me non ama e non conosce bene le lingue straniere grazie ad un lessico particolare una serie di abbreviazioni si può comunicare in tutto il mondo senza necessità di conoscere le lingue straniere poi un inglese di base più che sufficiente per realizzare un collegamento fra due radiomatori in qualsiasi posto del mondo ecco poi chiaramente c'è chi può dilungarsi e magari può fare discorsi diversi da quello che è il normale collegamento e tu mi parlavi prima che quando un collegamento va a buon fine si si inviasi una cartolina sì infatti mi incuriosisce questa cosa è un'abitudine nata molti anni fa fra i radiomatori siccome ci sono diciamo è un vanto dei radiomatori aver raggiunto un certo numero di paesi cosiddetti di country a conferma dei collegamenti ma anche come abitudine e buona educazione fra i radiomatori ci si invia una cartolina cartacea tipicamente oggi sempre più spesso abbiamo anche qui l'email o delle cartoline elettroniche che vanno a sostituirla però è ancora in uso la cartolina cartacea e ogni radiomatore colleziona e tiene care magari le le conferme di alcuni collegamenti magari più distante o con qualche caro amico e sono cartoline comunque personalizzate no? Sì sì ognuno generalmente ognuno ha la sua e poi ci sono quelle appunto di associazioni ci sono tantissime cartoline di vario di vario tipo. Ascoltami tu prima mi accennavi che c'è un corso che sta prendendo il via no? Le iscrizioni sono fino a fine settembre. Cosa deve fare una persona per accedere a questo corso? C'è un sito dove deve rivolgersi? Sì allora i corsi sono tenuti negli spettorati territoriali per il Veneto per esempio a Venezia ma chi fosse interessato quello che noi raccomandiamo è di farsi vivo presso la nostra associazione che siamo lì apposta forse il motivo. E vuoi ricordare il nome dell'associazione? Sì l'associazione radiomatori italiani che io rappresento è quella della sezione Cadore abbiamo un'email che è sezione aricadore chiocciola gmail.com chiunque fosse interessato volentieri possiamo fare anche da tramite o comunque spiegare quali sono i moduli che devono essere presentati per la prossima sessione ed esami scusate entro il 30 di settembre prossimo. Adesso fanno due sessioni all'anno in passato ce ne faceva una sola all'anno e vedo che ancora per quest'anno il ministero ha previsto la forma telematica è un sistema che è entrato in vigore con la crisi covid ma che comunque dà anche delle comodità specialmente per chi magari nella nostra zona o da Belluno può trovare più comodo il fatto del collegamento telematico anziché recarsi personalmente a Venezia. Sono d'accordo sono d'accordo qualche volta la tecnologia aiuta no? Che cosa avete fatto voi l'anno scorso come radio amatori? Mi parlavi del trenino delle Dolomiti credo sia stato uno dei vostri vanti? Sì, noi come essendo una piccola sezione insomma ci siamo dati un po' da fare. L'anno scorso abbiamo voluto ricordare con un evento radio amatoriale quello che sono stati cent'anni dal primo viaggio della ferrovia delle Dolomiti. Tutti i radio amatori della nostra sezione poi abbiamo coinvolto anche la sezione di Brunico e altre sezioni vicine che hanno voluto darci una mano. Siamo stati per un paio di mesi attivi in radio e abbiamo raggiunto un discreto numero di collegamenti. Insomma è stata un'iniziativa che ha avuto un buon seguito che ha dato la possibilità ai nostri soci o chi ha voluto di presenziare in radio anche a nome della sezione. Abbiamo ottenuto un nominativo speciale per l'evento. Era Italia Italia 3 Tango Delta Delta che voleva ricordare il trenino delle Dolomiti e speriamo in futuro e abbiamo già in programma altre iniziative. Adesso vediamo che cosa sarà possibile fare. Cioè non ce ne puoi parlare perché sono ancora un embrione. Deve ancora crescere. Le idee sono molte poi speriamo di riuscire. Ma meno male io dico sempre che ci sono le idee perché sono quelle che poi sono il sale della vita. Allora io poi avete fatto anche un'altra cosa mi sembra sulle Cortina 2021. Anche lì avete partecipato e mi sembra che anche quella è stata una buona esperienza. Ha avuto una bella riuscita come almeno come numero di collegamenti e come attività fatta in sezione. Nel febbraio 2021 per un breve periodo siamo stati attivi con il nominativo della nostra sezione che è Italia Quebec 3 Delta Delta. Siamo stati attivi in radio per ricordare proprio quello che è stato l'evento dei mondiali a Cortina nel 2021. Ah queste anche sono belle esperienze eh. Queste rimangono nei vostri album ricordo. Sì sì sì. Ascolta avete anche una sede? Sì noi siamo a Tai di Cadore presso il deposito carburanti. Abbiamo dei locali che ci sono dati in uso dal comune che ringraziamo e lì possiamo trovarci periodicamente ci si trovava in sede. adesso vediamo un po' di riorganizzarci. Stiamo anche un po' sistemando i locali per poi trovarci anche in presenza. Per adesso è molto più facile che ci troviamo anche noi in videoconferenza. E il covid ha cambiato un po' di cose no? Ha cambiato tanto. Sì ha dato anche qualche opportunità in più. Vabbè e quindi questo ben venga. Allora il radio amatore di ieri è cambiato rispetto a quello di oggi? Sì direi di sì non tanto perché sia cambiato il radio amatore in sé in quanto è cambiato quello che è forse la percezione del radio amatore. Stavo pensando prima quanto è facile oggi tramite lo smartphone comunicare da un punto all'altro del mondo. Non viene più visto il radio amatore come quasi un mago che riusciva a comunicare in qualsiasi posto del mondo. Però in realtà sono due tecnologie completamente diverse con delle soddisfazioni molto diverse perché pensare che ci sono io, le mie attrezzature, la mia antenna, l'etere e l'apparecchiatura dell'antenna di un altro radio amatore mi è capitato non molto tempo fa in Nuova Zelanda da un'azione un po' particolare che è diversa dall'accendere uno smartphone e usare una tecnologia VoIP che richiede un'infrastruttura che come posso dire non possiamo essere noi a gestire per forza di cose. Per cui sì il radio amatore oggi è diverso nel senso che le possibilità sono molto diverse. Poi essere radio amatore vuol dire molte cose, ognuno poi vive l'essere radio amatore secondo le sue preferenze. L'esempio è chi ancora oggi pratica appunto come dicevo prima la radiotelegrafia ed è un modo di comunicare completamente diverso, anche molto curioso e anche dal punto di vista tecnologico pur essendo una tecnologia così datata è anche ancora molto efficiente. E ci sono anche persone anziane ancora che rimangono radiomatori? Sì, sì ho dei bellissimi ricordi di molti amici, mi ricordo una persona che in radio, in telegrafia mi spiegava come era fatta la sua antenna scendendo anche nei dettagli, una persona che all'epoca aveva mi pare 92-93 anni, un radio amatore di Roma che poi sono andato a leggere su internet perché era un nominativo molto conosciuto e raccontava delle sue esperienze nella guerra d'Africa di quando lui radiotelegrafista militare permetteva i collegamenti fra Roma e Addis Abeba o dove fosse dislocato al momento. Speriamo abbia raccolto tutto quello che raccontava, no? Perché una volta i mezzi di comunicazione erano questi, non c'erano smartphone, non c'era il telefono, quindi la telegrafia era l'unica, quindi belle cose. Io ti credo che sei rimasto colpito e che rimarrà anche nella tua memoria questo fatto. Senz'altro sì. Eh beh, certo. Mi sembra che abbiamo detto tutto, cioè hai un po' schiarito le idee perché avevamo una gran confusione in testa. Io adesso vedo un po' più chiaro. Io spero di essere riuscito un po' a trasmettervi questa che è una grande passione mia e di molti altri e che qualcun altro, insomma, possa essere interessato a scoprire di più, anche più di quello che sono riuscito a comunicare io su quello che è il mondo dei radiomatori, che non è solo telegrafia, abbiamo anche tecnologie molto moderne, modi digitali. I radiomatori sono sempre stati un po' i pionieri in quelle che erano le nuove tecnologie in parte, per quanto è possibile, lo sono ancora oggi. Certo. Ma quindi secondo te ci sarà, quando tu comunichi con le persone all'estero, per esempio, dal momento che Radio ABM si sente un po' in tutto il mondo, è la radio dei nostri emigranti, che cosa diresti a loro? Ma io avrei una bella idea da provare, che ci sia qualche radiomatore che fa parte, che ascolta Radio ABM e che abbia voglia di provare a contattarci. Anche su questo, tramite l'email di sezione, fatecelo sapere perché senz'altro riusciremo ad organizzarsi e faremo il possibile per poterci sentire anche direttamente in etere e magari poi farvi avere qui alla radio. Magari, ci tengo proprio. Secondo me queste sono le cose buone che possiamo fare. È bello perché hai lanciato un messaggio e speriamo che venga colto. Dal momento che ci ascoltano un po' dappertutto, chissà, magari all'estero qualcuno è incuriosito o qualcuno ti chiederà anche delle informazioni come diventare. Volentieri, volentieri. Ma se un italiano è all'estero, come può fare lo stesso il corso? Deve seguire quelle che sono le norme locali e poi può comunicare chiaramente con tutti i radiomatori del mondo e in Italia siamo qui, ben disposti. Grazie Tiziano. Allora diciamo a tutti i radioascoltatori, 73 più cordiali che è un modo che usano i radiomatori per salutarsi. 73 più... 73, sì. 73, cordiali. Ok, grazie Tiziano per essere stato con noi. Grazie mille. Avete ascoltato Dentro la Notizia, a cura di Manuela Gaio.